Bene, ma noi non possiamo risolvere i problemi che ci troviamo di fronte con lo stesso livello di pensiero che avevamo quando li abbiamo creati. Questo lo diceva già Einstein, non un ragioniere. I problemi che abbiamo di fronte oggi non possono essere risolti con il livello di pensiero che li ha fatti sorgere. Eppure stiamo veramente cercando di combattere terrorismo, povertà, criminalità, conflitti culturali, degrado ambientale, malattie, persino l'obesità e anche la civiltà con lo stesso tipo di pensiero, con gli stessi mezzi e metodi che hanno prodotto questi stessi problemi. È un modo di pensare vecchio, è un modo di pensare sbagliato, come la lotta alla criminalità che impegna città, stati, nazioni. Tali entità tendono di compiere aumentando le forze di polizia, costruendo nuove carceri, combinando sempre pene più dure, invece di eliminare le condizioni che producono la criminalità, enormi ghetti cittadini, disoccupazione e quel senso di futilità e disperazione che infetta le menti di molte persone, specialmente tra i giovani. Quando uno non ha più niente da perdere, diventa pericoloso e soprattutto costoso per la società.